Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del Tg di Prealpina, un'edizione ricca di cronaca. Cominciamo da Varese, coltellate in Piazza Repubblica. Gli agenti della Questura sono la ricerca della persona che ieri sera ha sferrato due fendenti a un 27enne tunisino, irregolare e pregiudicato. Il giovane è ricoverato all'ospedale di Circolo con prognosi di 30 giorni. Intanto l'episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza in Piazza Repubblica con la Lega che attacca la Giunta a Galimberti. Vediamo il servizio di Marco Croce. Telecamere di sorveglianza, testimonianze, tracce rimaste sul luogo dell'aggressione. Procedono a tutto campo le indagini da parte degli investigatori della Questura di Varese per dare un volto e un nome all'uomo che venerdì sera in Piazza Repubblica ha sferrato almeno due coltellate a un 27enne tunisino, pregiudicato e irregolare. Il giovane è stato raggiunto da due fendenti alla spalla e al fianco ed è stato trovato da alcuni passanti riverso a terra. Trasportato d'urgenza al pronto scorso dell'ospedale di Circolo è stato ricoverato con prognosi di 30 giorni. Sarà adesso la Procura a valutare se contesterà all'aggressore ancora ignoto il reato di tentato omicidio o quello di lesioni aggravate. A prescindere da questo il violento episodio ha puntato di nuovo riflettori sulla sicurezza in città e in particolare sul comparto di Piazza Repubblica. La Lega, tramite il consigliere Emanuele Monti, è tornata ad attaccare l'esecutivo del sindaco Davide Galimberti chiedendo interventi più incisivi. E ora a Gallarate dove un furgone e la vetrina di un negozio sono stati danneggiati. Il sospetto ricade su un anonimo che non potendo ottenere alcolici, la cui vendita e consumazione vietati in alcune zone calde della città, avrebbe così deciso di sfogare la sua rabbia. Vediamo il servizio di Elisa Ranzetta. Vetri in feantumi sabato scorso per un furgone che era stato posteggiato in via Beccaria a Gallarate a due passi dalla stazione. La stessa sera anche la vetrina di un negozio etnico nelle vicinanze è stata rotta con una sassata. Il doppio episodio, secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe il risultato dell'escandescenza di qualcuno, probabilmente in stato di alterazione, che era alla ricerca di alcolici che non è riuscito ad ottenere in virtù dell'ordinanza che vieta al consumo e la vendita di alcol nelle zone di Gallarate che più hanno patito negli ultimi tempi le intemperanze di chi beve fuori misura. Quest'ultimo dettaglio è tuttavia da confermare. Quanto accaduto emerge mentre la città di Gallarate si interroga sulle risse che coinvolgono i giovanissimi che si danno appuntamento in città. Proprio attorno alla stazione non è difficile intercettare ragazzi che sono finiti protagonisti di pestaggi ed episodi violenti. Ci si picchia anche senza che ci sia un vero motivo e il loro racconto basta una parola fuori posto, una sigaretta o la richiesta di un euro perché è la situazione dei genei. Dal carcere al matrimonio passando per un libro e uno spettacolo teatrale. Ecco la nuova vita di Andrea Volpe, ex membro delle bestie di Satana. Ci racconta tutto Giulia Milani. L'ex bestia di Satana Andrea Volpe racconta la sua vita in un libro pubblicato da poco. Il 48enne è uscito dal carcere nel 2020 e vive a Comacchio con Sebastian, conosciuto in carcere, con cui si è sposato all'inizio dell'anno. In un'intervista a Repubblica ha affermato che se non avesse incontrato il gruppo avrebbe ucciso comunque e se non l'avessero preso avrebbe continuato ad ammazzare. Ora annuncia però di essere stato cambiato dall'amore, di aver coltivato l'empatia e di aver subito un risveglio della coscienza, anche nell'esperienza del dolore causata dalla malattia del marito, l'AIDS. Volpe ammazzò la ex storica fidanzata a Mariangela Pezzotta a gennaio del 2004 a Gola Secca perché sapeva. Un senso alla morte di Mariangela è che è stata il finale di tutto, dice Volpe, che collaborò con la giustizia e con il rito abbreviato venne condannato a vent'anni per quattro omicidi. A marzo del 2018, quando ancora era detenuto a Ferrara, chiese a un compagno di Cella di ammazzare per suo conto il figlio di un magistrato di sorveglianza di Bologna, il presidente del tribunale e un'educatrice. Le bestie di Satana diventano una tragedia teatrale. Sabato 9 al Teatro Sant'Anna di Busto Arsizio, alle 21 andrà in scena la pièce teatrale, poco più di un fatto personale. Da Venegono Superiore ai monti della provincia di Brescia, l'elicottero della Guardia di Finanza è intervenuto in Valbassa per recuperare due escursionisti rimasti bloccati in un canalone. Vediamo il servizio. Erano rimasti bloccati in un canalone di montagna sull'altura della Val Sabbia, ma in loro soccorso è arrivato Volpe, nome in codice degli elicotteri della Guardia di Finanza decollato dalla base di Venegono Superiore. Il velivolo e le squadre di soccorso alpino si sono rivelati decisivi per recuperare due escursionisti che avevano sbagliato il sentiero sui monti fra Toscolano, Maderno e Vobarno, in provincia di Brescia. Non riuscendo a proseguire, i due avevano lanciato l'allarme. Le squadre del soccorso alpino della Valle Sabbia sono state recuperate da Volpe e sbarcate all'uscita del canalone. Con diverse calate i soccoritori hanno raggiunto i due giovani e li hanno portati in un punto in cui è stato possibile verricellarli a bordo dell'elicottero. Una buona notizia per gli automobilisti di Varese. Dopo circa sette mesi di stop ha riaperto il ponte del Gaggianello tra Viale Europa e Viale Pietrochiara. Tutti i dettagli nel servizio con immagini dell'Agenzia Blitz. È stato riaperto oggi, sabato 2 novembre, il ponte del Gaggianello a Varese, dopo le operazioni di riqualificazione portate avanti in questi mesi. Si conclude dunque un altro intervento che ha coinvolto strutture importanti per la viabilità varesina, portando a quattro la conta dei viadotti riqualificati in questi anni. Al Gaggianello, infatti, si aggiungono Largo Flaiano, il nuovo ponte di Via Giordani e quello del Lazzaretto. Si tratta dunque di un piano di riqualificazione dei viadotti varesini senza precedenti per la città, costato in totale oltre 7 milioni di euro. Dunque, da oggi il ponte del Gaggianello, che collega via l'Europa al centro cittadino, è stato riaperto alla viabilità. L'intervento di riqualificazione si è caratterizzato per l'esecuzione di molti lavori sulla struttura, sul manto stradale e sul nuovo garrail. I lavori di miglioria e riqualificazione del ponte del Gaggianello sono costati oltre 800 mila euro e sono stati eseguiti anche grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia. L'ultima estate è stata caratterizzata da decine di interventi inseriti nel piano di manutenzione. Insieme dunque alle tante asfaltature è stata realizzata un'importante riqualificazione anche del ponte del Gaggianello, dice la Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Maria Paola Cocchiere. E passiamo alla ricca pagina di sport. Ok, preziosa vittoria ieri sera dei Mastini, che hanno conquistato tre punti contro Pergine davanti al pubblico di casa. Vediamo il servizio di Matteo Flocari, le immagini sono di Matteo Canevari dell'Agenzia Blitz. I Mastini tornano alla vittoria dopo una battaglia serrata contro il Pergine. Grande serrata di hockey alla 5S Arena con oltre mille tifosi presenti sugli spalti per assistere a una partita finita 5-4 in favore della formazione giallonera per un 5-4 nel quale sicuramente è stata decisiva la tripletta di uno scatenato piroso ed è poi stata sublimata la vittoria dal gol di Andrea Schina a circa 8 minuti dalla fine per il definitivo sorpasso nei confronti del Pergine. Varese che è poi stato bravo nel finale a blindare la vittoria senza rischiare molto di fatto. Con questi tre punti i gialloneri risalgono in classifica e si preparano al meglio verso il prossimo step che li attende già domenica alle ore 18 quando saranno impegnati ad appiano in una trasferta estremamente dura contro una formazione che ha un punto in più in classifica che attualmente occupa il quarto posto per cui si gioca veramente per qualcosa di molto importante. E ora il basket. Il Varese si prepara la trasferta contro Trieste dopo l'addio del capitano Niko Magnon, ormai giocatore dell'Olimpia Milano. Sentiamo il punto da Giuseppe Sciascia. Lo peggiormente si inaugura ufficialmente sul campo di Trieste l'era Doppio Magnon. Cessione da ritificare lunedì 4 novembre dal punto di vista formale dopo le visite mediche a Milano da parte dell'ormai ex capitano di Varese la cui presenta ancora sotto contratto permetterà comunque alla truppa bianco-rossa di passare già al format con sei stranieri e sei italiani. Non ci sarà turnover domani sul campo della matricola d'assalto con tanti ex da Mike Arceri a Colby Ross, da Markel Brown a Justin Reyes, ex però anche in casa bianco-rossa con Marco Legovic, assistente German Mandole, nato e cresciuto a Trieste e Davide Albiti che sarà consacrato proprio in terra giuliana prima del passaggio a Milano. Varese ancora in cerca di rinforzi, due stranieri e un italiano per sostituire l'ex capitano ceduto comunque con un congro incasso tra mancati stipendi da recapitargli e buyout. Logicamente la squadra sarà la stessa delle ultime due partite che ha comunque retto bene contro Trapani e vinto la prima gara contro Pistoia. In chiusura il calcio. Il Città di Varese domani sarà in Liguria per affrontare il Vado. Sentiamo le parole dell'allenatore Roberto Floris al microfono di Silvio Tranquillini. Sì, è una partita molto importante in un momento in cui sicuramente abbiamo ritrovato le nostre certezze. Stiamo bene, stiamo bene fisicamente, stiamo bene mentalmente. È una partita facile da preparare perché penso che è la partita che tutti vogliono giocare. Ma i ragazzi li ho visti ben concentrati, ben attenti e sono sicuro che sarà una bella partita. Non lo so, è una partita sicuramente molto difficile contro una squadra forte, attrezzata per vincere il campionato. È una squadra che è in salute. Non saprei dirti da quel punto di vista lì, spero che facciamo una buona prestazione e soprattutto dobbiamo avere la mentalità vincente, dobbiamo avere una mentalità davarese che è quella che ci sta contrastinguendo in questo momento. E ora la linea collega Silvio Tranquillini per le anticipazioni delle notizie che troverete domani, domenica, sulla prealpina in edicola e sui supporti digitali. Grazie Gigi. Conto alla rovescia per le elezioni americane. Sul giornale di domani facciamo il punto della situazione grazie alla chiacchierata tra Diego Pisati e Mauro della Porta Raffo, presidente onorario dell'Associazione Italia USA. Il vento sembra soffiare a favore di Donald Trump, ma Kamala Harris non starà a guardare. Nicola Antonello invece va a caccia della Casa Giusta grazie alla sua inchiesta sugli affitti in provincia di Varese, dove ormai trovare un appartamento è un'impresa difficilissima perché la maggior parte dei proprietari preferisce la locazione a breve termine. Gli ultimi appartamenti rimasti liberi costano tantissimo. Per le pagine della salute domani si parla di diabete e di cura dei denti e infine c'è il ricordo di Gianni Spartà della salita del Sacromonte di Giovanni Paolo II avvenuta 40 anni fa. Domani ci sarà una cerimonia di commemorazione alla presenza del Cardinale Parolina. E per questa edizione è tutto. L'appuntamento con il Tg di Prealpina torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.